Anticipazioni tempesta d'amore lunedì 4 novembre 2019 Quando Annabelle scopre che Joshua è innamorato di Denise perde le staffe e si serve di Henry per combinarne una delle sue. Decide di vendicarsi della sorella senza alcun limite. Intanto un ragazzo timido e impacciato arriva al Fustenhof. Eva trova sempre più difficile aprirsi con la sua famiglia a causa dei suoi problemi legati all'esperienza drammatica vissuta sui Carpazzi. L'unico in grado di comprendere la sua situazione è Christophe. Purtroppo però deve stare lontano da lui. Intanto la folle serata di Natasha e André termina in maniera scandalosa. Michael lo scoprirà? E se sì come reagirà? Grazie a tutti.